La gioia di essersi appena laureata e subito dopo aver incontrato due idoli come Cesare Cremonini e Gianni Morandi. È successo qualche giorno fa a Francesca, una studentessa fuorisede che al termine della proclamazione a Bologna, ancora con la corona d'alloro in testa e un bucchè di rose bianche tra le mani, si è imbattuta nei due cantanti che passeggiavano insieme a Piazza Grande. Con sua grande sorpresa, e incredulità, Cremonini e Morandi si sono avvicinati per complimentarsi con lei e scattarsi una foto in ricordo di una giornata così speciale. A bocca aperta agli amici di Francesca, che hanno immortalato la scena con gli smartphone. Giuro che mi hanno fermato loro ma scritto su TikTok, dove ha pubblicato il video, sollevando un'acclamazione popolare per i due amatissimi artisti. Me lo merito anche io un Cesare il giorno della mia laurea commenta un ragazzo, mentre c'è chi ironicamente avanza richieste, ma pure semilaureo a Cosenza. Di certo una bella coincidenza aver incontrato Cesare Cremonini e Gianni Morandi, insieme, il giorno della laurea, ma si sa la fortuna è cieca. Re al video vi ringrazia per averci accompagnato fino alla fine. Per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Grazie per il vostro supporto.